Abbiamo parlato prima di tutte le tematiche che riguardano la sostenibilità del mare e il rapporto dell'uomo con il mare in una città che è affacciata sul mare. Vorrei che lei ci dicesse qual è in questo momento il segno più importante, più tangibile che la città di Genova assume come impegno per la sostenibilità. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito e sono molto contento di essere qui. Genova è una città che nei secoli è sempre stata, io non voglio dire in riva al mare, voglio dire sul mare. Il mare era parte del nostro DNA, lo è oggi e lo sarà domani, inscindibilmente. E col mare noi abbiamo un rapporto importante, il mare ha dato a Genova l'economia, ha dato la ricchezza, ha dato la possibilità di lavorare, ha dato tantissime cose. Non possiamo permetterci il lusso di distruggerlo. Noi abbiamo, come amministrazione, abbiamo messo in piedi un programma, un programma che ci consentirà nei prossimi 5-6 anni di fare veramente un salto di qualità. E vi dico di cosa si tratta. Innanzitutto sapete che la qualità dell'acqua nelle spiagge, nei posti dove si va a fare balneazione, eccetera, è mantenuta alta da un sistema di competizione tra tutti i vari posti dove si assegnano le cosiddette bandiere blu. Ecco, la Liguria è la regione d'Italia che ha più bandiere di blu in assoluto e ci sono 7.000 km di coste in Italia. Pensate, è una cosa enorme. E noi forse non ce ne rendiamo conto, ma noi che viviamo sul mare sappiamo che è una cosa fondamentale. La qualità dell'acqua è uno dei beni principali che abbiamo. Ricordatevi, quando io avevo 10 anni, e cioè 50 anni fa, quelli che sono i capelli bianchi come me si ricordano che andare a fare il bagno al mare nelle spiagge vicino a Genova voleva dire incontrare l'acqua gialla. Ecco, è stato fatto un lavoro enorme di sistemazione, di depurazione, di tutti gli scarichi, eccetera, per cui oggi noi abbiamo un'acqua che è considerata tra i migliori d'Italia. Ecco, si può fare. Lo dico questo perché vuol dire che si può fare. Si può cambiare rotta, si può tornare a occuparsi del mare e quindi della natura e quindi del futuro di noi e delle nostre generazioni e facendo così si fanno miglioramenti eccezionali. Abbiamo poi un programma di trasporto pubblico locale, un programma che ci consente nei prossimi 5 anni, nel 2025, noi avremo il 100% del trasporto pubblico locale con energia sostenibile, ovvero sia con energia verde. E questo lo faremo elettrificando tutta la nostra parte di trasporto pubblico locale, dalle metropolitane agli autobus, ai taxi, ai sistemi di trasporto verticale. Noi a Genova abbiamo molti ascensori, molte cabinovie, eccetera. Abbiamo tutti un sistema particolare perché la nostra città, come sapete, è in salita, o qualcuno dice anche in discesa, però dipende un po' da come la guardi. Però Morale della Favola non è piatta, per cui abbiamo anche sistemi di trasporto di questo tipo e saranno tutti completamente basati su energia rinnovabile, ovvero sia non avremo più emissione di CO2 nell'aria nel 2025 da parte del trasporto pubblico locale. Questo è un risultato incredibile su cui siamo e ora siamo già sulla buona strada per raggiungerlo. E forse la cosa più importante in assoluto, ma no, tutte sono importanti, ma questa certamente farà parlare di Genova, abbiamo un progetto dove nei prossimi sei anni, cioè di qui al 2027, noi porteremo il porto di Genova a essere il primo porto ecosostenibile in Europa e quindi direi al mondo, ovvero sia il porto dove tutta l'energia diventa ecosostenibile e vengono azzerate, quando dico azzerate vuol dire portate a zero, tutte le emissioni di CO2. I soldi ci sono per poterlo fare? I soldi li abbiamo chiesti al Recovery Fund, come sapete, e il progetto è stato approvato dal governo, è stato portato a Bruxelles, ci aspettiamo il ritorno.